Volevo mostrarvi com'è possibile tenere una lezione in Altaxia ICDR utilizzando un video YouTube. Questo per quanto riguarda il lente che ho parlato prima, è una LMSS. Quindi ogni episodio posso a sua volta modificarlo, posso contribuiderlo e posso anche ridere gli episodi e gli animali. Questa è l'opzione di caricare speaker. Ora vediamo come registrare e trasmettere tramite l'applicazione. Andiamo in Andrea. La prima parte che vi è venuta fatta, carica il tuo podcast. Facciamo registra o altro momento. Ci collega il link a speaker studio che è un'applicazione esterna. Dovrete scaricare l'applicazione sul nostro computer e poi aprirla. Io l'ho già scaricata così l'altro, apri il computer. Ok. Qui. Grazie.